Siena si prepara a vivere tutta la magia delle feste ospitando lo storico mercato nel campo. L'appuntamento con il Mercato Grande, che quest'anno è dedicato a Siena, città capitale italiana della cultura, torna nella sua tradizionale veste invernale sabato 5 e domenica 6 dicembre, a cui si unirà per la prima volta all'edizione primaverile che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 aprile 2016. Due giorni per rivivere l'atmosfera dello storico Mercato Grande, che si svolgeva una volta a settimana nella Siena del XIII secolo con l'esposizione dei prodotti tipici dell'agricoltura, dell'artigianato e della manifattura. Oltre 150 banchi allestiti nella suggestiva conchiglia del campo di Siena metteranno in mostra i migliori prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato per dare vita a un appuntamento unico sulle tracce di quanto avveniva nel Medioevo. Il mercato nel campo non è un mercatino di Natale, è la storia che continua a riprodurre uno dei suoi eventi in cui il connubio tra bellezza e produttività dei suoi paesaggi sostanzialmente poi ha la sua trasposizione anche sociale e commerciale in piazza del campo. Lo sanno tutti, fin dal XIII secolo questo era il mercato grande, ogni settimana e tutto questo si è realizzato fino alla fine dell'Ottocento. Credo che nel 2009 sia stata una grande intuizione quello di ricostruire filologicamente quello che era un mercato che già normativamente fin dal 1309 nel Costituto in Volgare Senese era disciplinato. Anche quest'anno avremo delle novità.